Vediamo un po'. C'è qualche coraggioso? Scelgami, scelgami! Provaci, Sofia. Gesso? È tutto tuo. Le sue unghie strisciano sulla lavagna. Fatela smettere. Esiste una qualche speranza che la risposta sia breve? Sta davvero peggiorando. Dai, Sofia, hai quasi finito. Per favore, non ce la facciamo più. Hai fatto abbastanza. Mi siedo. Qual è il problema? Sono solo delle unghie lunghe, cavolo. Sette per ottantuno fa... Accidenti, è difficile. Ehi. Vuoi vedere i miei appunti? Wow. Vedo un pub, un'osteria e vedo anche la tua biancheria. Troppo forte. Ma che figura! Come faccio a chiudere la cerniera con queste? Se soltanto riuscissi a prenderla... Oh, dai! Non è possibile. Su, concentrati. Ci sono quasi. Ci rinuncio. È un disastro. Devo solo prenderla. Forse ci sto riuscendo. Ancora un pochino. Ho vinto, sì! Cavolo, ma mi sono persa il test. Oggi mi va tutto malissimo. Perché insisto nel tenermeli? Questo locale è carinissimo. E gli hamburger sono buonissimi. Così dicono, almeno. Aspetta di vedere i dolci. In realtà ho un'idea. Preso! Una porzione perfetta. Questo appuntamento va alla grande. Ci si concentra meglio con la pancia piena, ma... Sta succedendo qualcosa. Devo andare in bagno, scusami. Torno subito. Oh, che mal di pancia. Fa che ci sia un bagno libero. Oh, dai! Ah, meno male. Che sollievo. Ottimo, direi. Molto meglio. Oh, forse no. Adesso sì che ho un problema. Non sarà per niente facile questo. Ma che sta facendo? Che noia. È ridicolo, dai. Ah, meno male che ho fatto. Perché non riesco a scaricare? Ah, dai. Quasi dimenticavo. Ho le nocche. Ma certo. Che clienti maleducati. Non voglio rimanere qui tutta sera. Ma dove sono finiti tutti? Ci ho messo troppo accidenti. Di nuovo. Sì! È arrivato in fretta, vero? Ehi, grazie per essere venuto subito. Che buon profumo. Due ciottole di noodles in arrivo. Una per te e una per me. Oh, basta sollevare questa. Ehi, di solito funziona. E adesso le bacchette. Come si aprono queste cose? Così. Chiunque le abbia inventate non ha preso in considerazione le unghie lunghe. Sofia è a metà strada. Beh, questo significa soltanto una cosa. Anche le unghie lunghe possono essere utili. Perché preoccuparsi per gli utensili? Basta non essere sorpresi se qualcuno vi guarda strano. Ti sei lavata le mani prima, vero? Ok, è troppo divertente. Di spaghetti! Rimani in posa mentre immortalo il momento. Con i veri amici è facile stare insieme. Sono piuttosto brava con le unghie, sì. Oh, che prurito! Lana, credi di potermi aiutare, per favore? E questo è il punto? Oh, sì, è quello. Sei la migliore, Lana, grazie. Ma con altri amici stare insieme non è così facile. Ehi, guarda quei grattabarba! Come scusa? Non hai idea di quanto sia bello. Grazie, Lana, le tue unghie sono fantastiche. Beh, almeno sei popolare, giusto, Lana? Accidenti! Oh, cavolo! Ehi, Lana! Ciao! Oh, guardalo! Non posso vederlo soffrire così. Ecco che arriva un bel massaggio alla testa. Oh, che sollievo! E' fantastico! Mi sono appena risparmiata l'appuntamento dall'estetista. Le faccio asciugare adesso. Oh, mi è caduta la lima! Piano, piano... Userò i piedi. Ecco! Non posso mica rovinarle, giusto? Vorrei bere qualcosa. Non posso disidratarmi per colpa loro. Ci riuscirò se faccio attenzione. Devo solo concentrarmi. Bene! Manca solo una cosa. Come lo sollevo? Quasi. È Jared! L'acqua può aspettarmi. Oh, ma non posso cliccare, accidenti! Jared, aspetta! Mi sto arrivando! Ehi! Che si dice? Quasi asciutte. Ciao! Ma quelle sono le mie preferite! Non posso metterci le mani. Oh, ma sembrano così buone! Ho resistito fino ad ora. Ma la vita è troppo breve. Ehm... Fa pure? Oh, che schifo! Sono tutte sporche! Voi ragazze siete troppo pignole. Sono così felice di essere finalmente a casa. E qual è la prima cosa che voglio fare? Togliere questi tacchi scomodi? Da! Oh sì, mi sento meglio. E dopo mi tolgo queste lenti a contatto. Fammi preparare il contenitore. Aspetta un attimo. Ho le unghie troppo lunghe. Ma le voglio togliere. Ehi! Ah, mi ero dimenticata dei cotton fioc. Ora mi darete una bella mano. Basta piegarlo a metà in questo modo. Ora, tenendolo molto attentamente, mettilo vicino all'occhio. Ed estrai la lente in una mossa rapida. E vai! Facile e pulito. E i miei occhi possono finalmente respirare. Molto meglio! Il sole splende. Questo significa che è il momento della protezione solare. Hai bisogno di un piccolo aiuto, Olivia? Ehi, Emily, vieni qui. Ti spiace mettermi la crema solare sulla schiena? Ho appena finito di farmi le unghie, ma va bene lo stesso. Sembra abbastanza facile. Mentre le unghie in acrilico sono favolose, rendono la vita un po' più impegnativa. E in questo caso disordinata. Eccoci! Ma dovrebbe fare così male. Sono coperta di graffi. Scusa, sembra che i miei artigli abbiano preso il sopravvento. Beh, ciao. Grazie di tutto. Grazie a tutti.